da un romanzo di Stephen King, che è anche sceneggiatore del film. Una cittadina della provincia americana viene scossa da alcuni efferati delitti che sembrano destinati a restare senza soluzione. Se non che il piccolo Marty, un ragazzo handicappato, scopre che l'assassino è un lupo mannaro che colpisce nelle notti di luna piena. Il mostro naturalmente cercherà di eliminarlo, offrendo così le scene di maggiore suspense del film.